guardate che diretta, che diretta, 1100, 1100, 1100T, funzionante, restaurato alla perfezione, guardate che spettacolo, spettacolare, spettacolare, spettacolare 1100T, accendi il motore, siamo in diretta, accendi, guardate qua, carissima la vici, c'è la diretta, spettacolare, spettacolare diretta, smarvi nell'opera, bello, bello, spettacolare, spettacolare, ragazzi, Fiat 1100T, perfettamente funzionante, restaurato, guardate che spettacolo, capitano 30 giorni queste dirette, capitano ritornati di milioni, guardate che bello, eccezionale, 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 saluta, saluta anche gli amici del mio canale, siamo qua, siamo qua a Marvin Tour, è un Marvin Tour, la triade, la triade, Riccardo Nassisi, saluti da Marvin, saluti da Marvin e da Riccardo e Alessio, insomma, Marvin Tour anche questo, emozioni diretta al volo, prendi quello che viene, viene, fai uscire le officine, insomma, possiamo diventare un po' matti tutti, però, certo, certo, portiamo a casa, portiamo a casa il bottino, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, un mezzo ancora circolante, un coro operativo eccezionale, di questi tempi, non se ne vedono certo tutti i giorni, saluti a tutti e alla prossima!